Due mondi che si incontrano, chi siamo e chi vorremmo diventare. Questa è stata Olanda Italia per le nostre azzurre davanti ai 4.500 spettatori dello Sport Centrum Indoor di Eindhoven. Per una gara amichevole, un invito di grandissimo prestigio per le nostre ragazze al cospetto di un modello ormai della palla a mano globale l'Olanda che in nove anni dal 2006 con la nascita della sua Accademia al 2015 ha costruito appunto uno modello di palla a mano vincente in grado di arrivare al secondo posto, medaglia d'argento ai campionati mondiali del 2015, ai campionati europei del 2016 e per la prima volta nella sua storia di partecipare alle Olimpiadi piazzandosi al quarto posto. La squadra ha, allenata da L. Thompson, anche guida tecnica del Bucharest, una delle potenze della Champions League e oggi una delle realtà, come dicevamo, della palla a mano mondiale. E giocatrici come il centrale Niki Groth, eletta MVP agli ultimi europei, sono considerate tra le top players a livello planetario. Allora, è facile per me vedere tutti i giocatori, perché ogni gioco in Germania e la Champions League puoi vedere all'internet, quindi è facile per me essere in Romagna e seguire i giocatori. Io ho contattato con i giocatori e i giocatori, quindi è facile per me. Allora, è molto popolare a giocare l'handball, perché due anni fa aveva SILVA in denmark in la Champions League, e l'ultimo anno SILVA in la Champions League europea in Sweden. Quindi, ovviamente, vedete che oggi ci saranno molte persone, perché ora tutti i giocano l'handball. Ovviamente, se hai una squadra vene, ci saranno molte persone a guardare. E anche le ragazze che vedete qui, per sicuramente, hanno iniziato a giocare l'handball. No, non so, non possiamo più sorprendere, ma possiamo giocare in una forma normale, e possiamo cercare di giocare bene. Per noi, è più importante, giocare come squadra e l'opportunità. E, a volte, giocare con tanti che possono uscire, e non spero che ci sono così tanti che possono uscire. Ma, ovviamente, a volte, metto tanti che possono uscire. Io credo che la Champions League sarà davvero difficile per noi. Abbiamo alcuni giocatori che giocare l'anno scorso, ma non giocare con noi questo anno. Abbiamo alcuni giocatori per alcuni giocatori. Quindi, sicuramente, questa Champions League sarà una davvero difficile per noi, ma faremo tutto ciò che possiamo per vincere tantissimi giocatori come possibile. E pensare che nel 2007 l'Olanda era di fatto sparita dai radar mondiali dopo un quinto posto ai campionati mondiali del 2005, che però era stato fondamentale per portare alla nascita di quell'Accademia. Ecco, l'Accademia è alla base dell'ascesa della pallamano olandese. Il modello, infatti, affonda le sue radici in un progetto ben preciso. Questa Accademia è nata nel 2006 che ha origine all'interno dell'Olympic Center Sport di Papendala, Darnem, località olandese situata sul Basso Reno. Qui un gruppo di giocatrici, circa 25 fra i 16 e i 17 anni, si allena per 5 giorni alla settimana, dal lunedì fino al venerdì, quando le atlete rientrano nei rispettivi club per prendere parte ai rispettivi campionati nazionali. Alla guida dell'Accademia c'è il tecnico olandese Robert Needham, che abbiamo ascoltato per farci raccontare come funziona l'Accademia, la Handball Academy olandese. Alla guida dell'Accademia è un programma per i giocatrici, Quindi abbiamo 25 giocatrici di precedenti i 20 anni, in ogni genitore della fascia di Roma, quindi 15-19 anni mesi in giocatrici. Quindi abbiamo dato un programma di un programma pubblico, che servono between 15 e 20 giorni e che potenziano a scuole di 15 e 20 giorni e che vivono da previousità di campus, quindi passiamo presto tutto qui è un programma, è un programma pubblico. Sì, abbiamo un grande staff, quindi non lo faccio solo, e non solo proviamo il handball, ma anche il top sport lifestyle, lo chiamiamo. Quindi vi proviamo molti workshopi, abbiamo anche un live skill coach, che lavorano con loro, quindi puoi immaginare che quando sei 15, quando sei 15, tu vieni a vivere, tu devi vivere qui, che hai un po' di discussione su come puoi e cosa fare, e quindi noi guidiamo anche su live, non è solo l'athlete che trainiamo, ma proviamo anche di trainare il personale. In il primo è stato difficile, ovviamente, ma tutto quello che hai cambiato è difficile, quindi devi passare tutto questo, ma ora vediamo che i giocatori stanno sempre meglio, e quindi ci sono anche parte del successo, perché i giocatori stanno meglio, e ci sono anche in i giocatori, dove stanno giocando. Sì, ovviamente, ovviamente, quindi è giusto quando hai risultati, quando hai risultati, è più media attenzione, quindi tutti i giocatori stanno live su televisione, e questo è un po' molto, prima che non avevamo questo, e poi è un po' di pubblico, perché non mostro, ma non mostro, ma non mostro, e i risultati sono arrivati, e molti bambini vogliono essere un handball player, e adesso hanno idoli, come le handball players, quindi è davvero molto buono. Alla base di questo successo c'è un numero in particolare, il 70% delle ragazze che facevano parte del roster vice campione del mondo nel 2015 erano nella prima accademia della Palomano olandese, un risultato di grandissimo impatto, che la dice lunga poi sul funzionamento di questo modello, un modello in grado di esportare giocatrici in tutto il mondo, 27 delle 28 convocate nel gruppo, che appunto poi andrà ai mondiali, arrivano dai campionati e militano nei campionati esteri. Noi, abbiamo iniziato l'academia in 2006, perché la differenza tra i nostri campionati e i junior campionati è stata davvero grande, e abbiamo bisogno di fare più attrazione con i nostri campionati. Quindi abbiamo iniziato la handball academy in Papendal in Arnheim, e ci sono stati talenti, come 20-25 campionati, in l'anno di 15-16-20, e ci sono attrazione ogni giorno due volte, e a settimana sono attrazione con il club team, e nel settimana si gioca per il loro club. Quindi abbiamo fatto i nostri campionati individuamente molto, molto meglio, e anche come team, perché molti di questi campionati stanno spiegando in le 20-18 categorie in l'Europa cup. All'inizio avevano scoperto che i campionati stavano fuori, e, ovviamente, che i campionati non stavano in loro attrazione, ma anche i campionati stavano, che i campionati sono migliori, quindi hanno accettato. E anche per tre anni, che abbiamo giocato la competizione in la Liga dell'Unione. Ma ora è successo, non abbiamo più giocato la competizione, è solo per allenarci e giocare per le campionati in la Liga dell'Unione. E ora sono stati, e, ovviamente, e questo viene prima. E ovviamente vogliamo avere i giocatori che stanno giocando in altri paesi che vengono una volta quando sono 23, 24, 25 e vengono a la squadra e aiutiamo a lasciare la Liga Duttia crescere un po' più. Le ragazzi sono molto popolari in Holanda e tutti vogliono prendere una foto, avere un autografo e è buono per la Liga Duttia. È davvero buono per la Liga Duttia. La Liga Duttia è diventata così dal 2005 in poi quando hanno fatto un progetto tutto femminile. Il nostro livello femminile ha diversi limiti e dobbiamo avere l'umiltà però di guardare a questo paese, cercare anche di copiare alcune cose adattandolo alla nostra situazione. però sicuramente dobbiamo iniziare. Dobbiamo iniziare con l'umiltà guardando chi ha fatto bene. La Liga Duttia La Liga Duttia La Liga Duttia